Questo ve lo sto dicendo perché gran parte delle cose che oggi vi faccio vedere sono cose che non esistono, ovvero le linee dentali, non c'è un dentista dove tu vai e c'ha la linea dentale che te la presenta così. Ok, quali denti vuoi? Abbiamo questo, 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 questo e questo. Non ti fa vedere le fotografie? In questa maniera ti spiega di ogni singola linea quelle che sono le caratteristiche. Ok, perché magari ne fa 4 all'anno di queste, ok, magari ci perde più tempo a farti vedere quelle che sono le caratteristiche della devitalizzazione, del ponte, ti spiega, ti fa delle campagne apposite sull'igiene, ok, istruzioni all'igiene. Dove tu lavori, quindi il mercato dove tu lavori influenza tantissimo quello che tu offri. Noi siamo una clinica che alcune cose non le fa, non le farà più in futuro, stiamo sempre stringendo, stamattina parlavamo per esempio con Giuseppe della iperfocalizzazione. Vabbè, stiamo lì, aperto a casa mia, apriamo di là e... Non c'è la pascolante? C'è là, c'è là. Ma ne passa uno ogni 15 minuti di ambulanza. E con un po' di... Il mercato influisce tantissimo, cioè quello dove uno lavora, su quello che offre. Per esempio io non posso aprire un centro massaggi in campagna, per esempio. O non posso aprire, che ne so, un negozio di scarpe, che ne so, in spiaggia. No, dipende, infatti c'è un negozio di asciugamani e dipende quello tanto. E questa è una cosa che molti sottovalutano, perché quando uno pensa, vado a curarmi dal dentista, è come dire, vado a farmi bello. Che vuol dire? Capelli, occhi, labbra, stai andando a cambiare vestiti. Dentista è una figura che sta diventando iper specializzata. Ok, c'è quello che fa estetica, quello che fa ortodonzia, c'è quello che fa riabilitazioni complete, c'è quello che fa gnatologia, che cura l'articolazione. Ok?